Benvenuti ad Alghero, io sono Claudio, un local friend di Guide Me Right. Ci troviamo nella località del Lazzaretto, a 10 minuti da Alghero. Oggi vi farò vivere una fantastica esperienza. Andiamo insieme alla scoperta delle splendide calette di questa località. Spiagge bianchissime, acque cristalline e panorami mozzafiato. Le calette sono dei piccoli tesori nascosti, completamente immersi nella natura. Accessibili soltanto con delle belle escursioni che possiamo fare insieme. Sono diventato un local friend perché è la maniera migliore per scoprire un territorio. Alghero ha degli angoli nascosti davvero splendidi e solo un local friend può farvi scoprire per intero. Con me farete delle esperienze da veri viaggiatori, non solo turisti. Ho tanti e tanti posti da farvi vedere e tante storie da raccontarvi. Se non vivi a Alghero con un local friend, non la stai vivendo davvero. Vi aspetto per visitare insieme queste bellissime calette. Un saluto da Claudio e da Gaid Mirai.